buongiorno a tutti e benvenuti ad un nuovo video sul nostro canale oggi vi presentiamo il passeggino quid d'inglesina è un passeggino come potete vedere dal telaio leggero e super compatto tanto che fra i passeggini d'inglesina è quello più adatto per il viaggio soprattutto per i vostri viaggi in aereo perché la chiusura è talmente compatta che si adatta come misure al bagaglio a mano appunto dell'aereo partiamo dall'inizio e vi faccio vedere la capottina che è una capottina già bella ampia ma comunque come tutte le capottine di inglesina è estensibile aprendo semplicemente una zip quindi come potete vedere la capottina si abbassa tantissimo e va a riparare il bambino dal sole un'altra caratteristica tipica d'inglesina per quanto riguarda le sue capottine è il trattamento che fanno con upf 50 più per la protezione contro i raggi solari guardiamolo all'interno e come vedete ha lo schienale imbottito e le classiche cinture a 5 punti quindi quelle sulle spalle complete di spallacci le due intorno alla vita e lo spartigambe centrale lo schienale è completamente reclinabile basta semplicemente premere il pulsantino che trovate dietro lo schienale e tirare e andare a regolare lo schienale come preferite questa è la posizione nanna e come vedete è una posizione comodissima anche per i bimbi più piccolini per tirare sullo schienale basta semplicemente premere il pulsantino e di nuovo tirare sullo schienale il poggiapiedi è regolabile lo giriamo così vedete meglio anche in questo caso ci sono semplicemente due pulsantini da premere e si va a regolare il poggiapiedi nella maniera che preferite in più avete anche il portoggetti eccolo qua e come accessorio il parapioggia quindi avete veramente tutto quello che vi può servire ma arriviamo adesso alla parte principale e cioè alla chiusura del passeggino si fa con una mano sola e semplicemente con i pulsanti che trovate sul maniglione quindi basta premerli e accompagnare il passeggino nella chiusura come vedete rimane veramente veramente piccolo e andando a togliere il maniglione questo qua di protezione occupa ancora meno spazio aspettate che ecco qua il passeggino inoltre sta in piedi da solo grazie al piccolo cavalletto che trovate già in dotazione insieme al telaio quindi come potete vedere è un passeggino che per chi viaggia è veramente ottimo vi ricordo anche che come accessorio optional quindi acquistabile a parte potete trovare la sacca dove chiudere il passeggino in modo che non si sporchino le stoffe è veramente leggero è davvero maneggevole anche solo con una mano riuscite a guidare il passeggino è veramente veramente bello ma se conoscete i prodotti di inglesina sapete cosa aspettarvi da un passeggino come questo vi ricordo inoltre che li trovate già disponibili nell'intera gamma colori sul nostro sito www.casababy.it e niente noi abbiamo finito la nostra presentazione del passeggino quid e per ringraziarvi di aver visto il video abbiamo pensato di regalarvi un codice sconto appunto da inserire al momento dell'acquisto sul nostro sito www.casababy.it e il codice sconto è ytquid in ogni caso vi lasciamo tutte le informazioni nell'info box qua sotto vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale se ancora non l'avete fatto di attivare la campanella in modo da rimanere sempre aggiornati ogni volta che esce un video nuovo e noi ci rivediamo al prossimo video ciao